E' cominciata questa mattina, 3 settembre, la sesta edizione del World Urban Forum, la conferenza internazionale promossa dall'agenzia UN Habitat delle Nazioni Unite che si occupa dei fenomeni urbani e degli insediamenti umani sul pianeta. Al Palazzo dei Congressi della Mostra ad Oltremare, il direttore esecutivo di UN Habitat, Joan Kloss, ha aperto i lavori con un saluto ai partecipanti, studiosi, esperti e cittadini provenienti da oltre 150 paesi. Sono quindi intervenuti il sottosegretario agli esteri De Mistura, il ministro della pubblica amministrazione Patroni Griffi, il ministro brasiliano delle città Ribeiro, il sindaco De Magistris, il presidente della regione Caldoro, il presidente della provincia Cesaro. Il direttore generale dell'ufficio ONU di Nairobi ha poi letto la dichiarazione del segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Il World Urban Forum è una grande occasione non solo per la nostra città ma penso per tutti i sindaci del mondo. Dagli incontri che stiamo avendo si parla del futuro delle nostre città, delle nostre comunità ed è molto bello nei dialoghi che abbiamo avuto, che ho avuto quello di vedere che alla fine i problemi di Napoli, quelli di Istanbul, di città del Messico, di Kinshasa, di Quito sono sostanzialmente gli stessi, cioè quello di rendere le città più vivibili, più sicure, in cui le persone possano star bene insieme, con minore disuguaglianza e soprattutto quello che mi ha colpito è che tutte le città puntano a una vivibilità fondata sulle persone. Quindi maggiore mobilità sostenibile, più pedonalizzazioni, più biciclette. Abbiamo avuto ieri uno scambio con città del Messico, città da 20 milioni di abitanti, in confronto a Napoli un milione, si discuteva della stessa cosa. Il sindaco mi diceva che tre anni fa era impensabile che in quella città ci potessero essere le biciclette. Quindi è anche abbiamo convenuto sul fatto che gli spazi pubblici delle città devono essere occupati dai cittadini. Questa è la migliore garanzia della lotta anche alla criminalità e contro le insicurezze. Il forum affronterà temi e criticità delle aree urbane in un'ottica planetaria, con approfondimenti sulla pianificazione delle città, sull'economia e l'occupazione, sui servizi essenziali, sulla mobilità del presente e del futuro, sull'acqua, l'energia, l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti. Una sezione speciale sarà dedicata alle bidonville e agli agglomerati ad elevato degrado, che in alcune regioni del pianeta, come l'Africa subsahariana e il sud-est asiatico, costituiscono la condizione di vita per buona parte della popolazione. Al Padiglione Italia sono raccolti gli espositori internazionali, con proposte di innovazione tecnologica, modelli di progettazione urbana, visioni e idee dal mondo. Oltre 10.000 persone parteciperanno a questa edizione del World Urban Forum. I lavori proseguiranno tutti i giorni dalle 8 alle 19 fino a venerdì 7 settembre.